Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Moltissimi in Abruzzo sono stati ieri gli eventi promossi per il giorno della memoria 2020, dagli spettacoli teatrali ai convegni, dalle mostre alla proiezione di documentari e film. Gli iniziative si sono svolte e si svolgeranno ancora nei prossimi giorni. Protagonisti indiscussi nelle quattro province, i giovani delle scuole e i loro insegnanti. A Pescara l'amministrazione comunale ha promosso tre giorni di eventi, che erano iniziati con la seduta solenne del Consiglio Comunale, durante la quale è stata conferita la cittadinanza onoraria, la senatrice Liliana Segre, all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, alla Brigata Ebraica e a tutte le vittime della Shoah. Ieri, inoltre, al liceo classico si è svolto l'evento Armando Parete, una testimonianza da Dachau. Proiettato un video che ripercorre la deportazione, la prigionia a Dachau, la liberazione e il ritorno al paese nativo di Abbateggio, del finanziere abruzzese, sopravvissuto dal campo di sterminio nazista di Dachau, è venuto a mancare nel 2016. All'Istituto Scolastico Nostra Signora c'è stato lo spettacolo 27 dicembre 1945, percezione di uno sterminio, ideato e diretto da Rossella Mattioli, che ha ripercorso in un'ora alcune delle vicende relative allo sterminio degli ebrei perpetrato dai nazisti. Sempre a spoltore, le classi quinte del liceo del circolo didattico si sono raccolte nell'ambito del progetto Continuità nella sala del Consiglio Comunale, con un momento di riflessione dedicato proprio alla Shoah con la proiezione del cortometraggio La Stella di Andra e Tati. E tornando a Pescara, invece, ieri, nell'aula del Consiglio Comunale, dalle 9.30 e lungo tutta la mattinata, si è svolto un dibattito che ha visto protagonisti su eccellenza, Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, diverse personalità della CEI e della comunità ebraica, del mondo ebraico. Nel dibattito è stato sottolineato il valore della memoria come qualcosa che ci aiuta a ricordare il passato, ma anche ad avere una nostra identità nel presente ed essere proiettati nel futuro, come sono le caratteristiche del cristianesimo. è stato detto da vari relatori presenti anche alcune personalità del mondo ebraico che tra testimonianze e riflessioni hanno appunto sottolineato davanti ai giovani che hanno ascoltato silenziosamente e con molto rispetto quanto veniva loro proposto, hanno appunto ripercorso le vicende del sterminio degli ebrei e anche, insomma, hanno preso spunto da questo per riflessioni su la necessità che tutto questo non accada mai più. Ne parleremo durante la nostra rubrica Servizi Interviste, non da oggi, alle 18.13. E veniamo alla vicenda dell'A14, doppia riunione in prefettura a Teramo e poi a Pescara. I rappresentanti degli enti locali hanno preso atto della relazione di autostrade per l'Italia che sarà presentata questa mattina al Tribunale di Avellino, con la quale il gestore dell'A14 chiederà il dissequestro e la rimozione di limitazione di vieti per i mezzi pesanti sul viadotto del Cerrano. Il progetto esaminato dai rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato alle riunioni prevede il monitoraggio costante del viadotto del Cerrano attraverso il posizionamento di sensori di ultima generazione alla base dei piloni che dovranno rilevare ogni minimo movimento del terreno ed evidenziare un'eventuale frana in atto. In tal caso si procederebbe all'interdizione del traffico del viadotto lungo l'A14 tra Pineto e Città Sant'Angelo, viadotto che, come è noto, è ora off-limits ai tir che si riversano sulla statale 16, creando molti problemi di traffico e smog. Le autorità locali e le forze dell'ordine hanno visionato il documento di autostrade per l'Italia nella sua interezza e hanno proposto alcune sottili limature. La società che gestisce le tratte si è impegnata alla trasmissione urgente del documento alla Procura della Repubblica di Avellino. Ora si spera che gli inquirenti capiscano che è stato fatto, dice Autostrade per l'Italia, un ulteriore sforzo per mettere in sicurezza quel tratto di autostrada. Il compito degli enti locali e della protezione civile sarebbe quello di gestire le conseguenze qualora ci si trovasse a fronteggiare un'emergenza come la viabilità e l'assistenza agli automobilisti. Domenica la protesta in piazza Silvi della cittadinanza, che davvero non ce la fa più a sostenere il caos creato dal passaggio di mezzi pesanti, come in altri comuni costieri, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Pineto. Anche i sindaci parlano di situazione critica che non può essere più sostenuta. Dopo che una precedente istanza era stata già respinta, ora Autostrade per l'Italia, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha fornito indicazioni operative in un summit a Genova, ha predisposto un documento che mette nero su bianco le varie operazioni da far scattare allo scattare dell'emergenza. Ora aspetta il giudice per le indagini preliminari della Procura della Repubblica di Avellino decidere se il piano di autostrade per l'Italia è tale da far ritenere superata l'emergenza e soprattutto permettere ai TIR e agli autobus di fruire del viadotto del Cerrano. Petizione popolare tra i comuni del litorale molisano per proporre l'annessione di Termoli e dei paesi limitrofi alla Regione Abruzzo e la proposta lanciata durante l'Assemblea pubblica sulla sanità organizzata dal gruppo social Voglio Nascere a Termoli. Medici, primari, sindaci, consiglieri regionali, la parlamentare Giuseppina Occhio Nero, l'avvocato Laura Venitelli, il Forum per la Difesa della Sanità di Qualità, il Comitato di Larino per il Bene Comune, i consiglieri comunali, la rete della sinistra termolese e i cittadini sono intervenuti sottolineando la necessità di alzare il tono della voce per salvare il destino del Santimotio. I concorsi, seppur banditi, non stanno andando avanti. In O Torino la selezione per un medico è terminata due anni fa con un vincitore, ma non è stato assunto, hanno dichiarato gli operatori sanitari. Di questo passo andiamo incontro ad una lenta agonia. Intanto appunto ha preso il via la raccolta di firme per le annessioni dei comuni del litorale all'Abruzzo. Ulteriore approfondimento sulla riorganizzazione della rete ospedaliera da portare avanti con il tavolo congiunto prima dell'invio allo specifico tavolo del DM70, condivisione del piano per l'assistenza territoriale, per il quale viene chiesto di produrre un cronoprogramma dettagliato delle azioni, sblocco delle premialità di oltre 70 milioni di euro per aver sanato nel 2019 gli inadempimenti riferiti al 2017, ma al contempo un maggiore controllo della dinamica di spesa delle ASL per garantire l'equilibrio economico-finanziario del sistema. Sono gli aspetti principali evidenziati nel verbale della riunione del tavolo di monitoraggio del 30 novembre scorso trasmesso al Dipartimento regionale Sanità. Sulla rete ospedaliera il verbale prende atto delle schede relative ai presidi di Penne, Popoli, Ortona, Guardia Grele, Atesso e Castel di Sangro inviate a luglio e del piano di programmazione trasmesso a ottobre. Lo sport calcio Nicola Legrottagli è stato confermato nel suo ruolo di allenatore della Pescara dopo la vittoria di domenica per 2-0 in trasferta. L'ex tecnico della primavera, ora dunque tecnico della squadra di Serie B del Pescara, ha ringraziato per questa opportunità che gli viene concessa e ha lungamente elogiato una società che ha detto al coraggio di proporre un allenatore giovane che non ha mai allenato in Serie B e che ha espresso la speranza di poter fare bene nel Pescara. Oggi è martedì 28 gennaio e la Chiesa celebra la memoria di Santo Maso d'Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera e coperto in tarda serata con temperature da 12 a 17 gradi e venti moderati. E nelle zone interne cielo molto nuvoloso fino a metà pomeriggio, coperto nel resto del pomeriggio e molto nuvoloso in serata con temperature da 11 a 13 gradi e venti moderati. In mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.